renzi no aspetta no un momento fammi capire dove deve entrare no da qua salgo di là torno indietro devo scendere di nuovo di qua è uguale scendi di lì e vabbè fa niente e ascolta scendi da qua aia 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 ma vada via i ciabba sai perché mi si è ganciato il piede in quel pezzettino lì ma vaffan bagno va ma cazzo che sfiga qua ho preso dentro questo vedi lo stivale parca trota ero già giù cazzo capito sei arrivato te però è ma che sfiga mi sei agganciato qua basta mi ha preso dentro il corpo ma che cazzarola ma vada via e non inventare scusa se non puoi inventare guarda guarda eh si cazzo ero a zero eh 40 anni che ho preso su i piedi di cazzo non è a messico era su le pedivelle era su le pedivelle dopo 30 anni che vai in moto per ancora queste cagate qua ma che numero però hai visto se salti e beccavo dentro vedete che cappottone che fai ma porco caneo ma guardate no la devi largarti per forza se no non salti su questo è più facile così non devi lasciarla andare eh ho che non beccare il cosmo eh bravo bravo nevo bravo bravo nevo Grazie a tutti.